Ciao ragazzi, avete mai sentito parlare del motel Destiny? È un motel incredibile perché succedono delle cose alquanto bizzarre. Questo motel ha solamente 9 stanze e questi gettoni rappresentano un po' le camere di questo motel. Allora io vorrei che voi controllate questi gettoni, controllate che non abbiano nulla di strano, nulla di particolare. No. Normali? Sì, sì. Dammi pure. Ok. Tu? No, non ti distratta. Ok. Allora, prendo queste fische, diciamo questi gettoni, te li do in mano a te. Tu dovrai fare una cosa, dovrai mescolarli e poi lanciarli qui sul tavolo. Va bene. E dovremo andare ad eliminare tutte quelle fische che presentano il bianco verso l'alto. Ah, sì. Fino a che non ne rimarrà una. Prova. Ehi, guarda, guarda quante già ne possiamo eliminare. Beh, è incredibile. Guarda, allora facciamo una cosa. Eliminiamo quindi tutte queste. Ok. Ne rimangono due. Vai, lancia quelle due ancora. Ops. Vabbè, una ne è caduta per terra. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Ne rimane una qui sul tavolo che io vado a mettere qui. Ok? In quello che è il portachiavi della camera da letto del Motel Best. Non ci vedrai, ma il tre è proprio il portachiavi della stanza numero tre. La stanza che probabilmente avresti scelto. Non ci vedrai, non ci vedrai, non ci vedrai.